Lassie! Vai, prendilo! Ti faccio vedere. Domani via quella bestia! O ve ne andate via voi! Priscilla baderà a Lassie con tanto amore. Mi dispiace, Lassie. È il raffreddore da pieno. Ora usciamo. Lassie! Quello nel video è Lassie. È da qualche parte. Vuole tornare a casa. Da me. Ora vedremo quale strada prenderebbe Lassie per tornare qui se adesso fosse in viaggio dal mare del nord fino alla nostra scuola. Troveremo Lassie, te lo prometto. C'è se si rinca, mi scura di nuovo. C'è se si rinca. C'è se si rinca per tornare. C'è se si rinca. Ma questa parte, mi spiace.